Una copiosa perdita di acqua ingide nelle tasche dei cittadini angresi, come segnale il contatore posto all'esterno del campetto abbandonato della 167. È trascorso oltre una settimana dalla segnalazione della perdita del prezioso liquido all'assessore delegato all'ambiente Maria Immacolata Daniello, ma nessun intervento di riparazione è stato effettuato. Solo indifferenza, una perdita, come sottolinea il consigliere comunale Alberto Milo, in sopralluogo sul posto, onerosa, che origina dal vicino campetto abbandonato e lasciato aperto e senza custodia alcuna, con grave pericolo per l'incolumità delle decine di ragazzi che ci accedono incautamente. Costatiamo che la disamministrazione di questo sindaco continua a 360 gradi. C'è una perdita di acqua registrata da giorni in questa zona, mi è stata segnalata dai cittadini, dai residenti di via Leonardo da Vinci, i quali giustamente dicevano che spreco di Dio ha abberto buttare via tutta quest'acqua. Ma è assurdo ancora perché il paradosso in tutta questa storia qual è? Che è vero che è uno spreco, ma è uno spreco che paghiamo, perché all'esterno c'è un contatore che gira regolarmente e registra quest'acqua che viene lì buttata via. Ma ci rendiamo conto che nemmeno di fronte a queste piccole banalità non si riesce a dare una risposta immediata. Io oggi mi trovo in quest'area, diciamo un'area campetto, che versa in un completo stato di abbandono. Già in passato avevo denunciato l'intervento dell'amministrazione, basterebbero pochissimi migliaia di euro per sistemarla, metterla in sicurezza e come dire, metterla a disposizione dei bambini del quartiere, dei ragazzi del quartiere, perché realizzare qua una piccola area campetto sarebbe un punto di sfogo per i ragazzi di questo quartiere. La città ormai è abbandonata a se stessa, l'interesse pubblico è completamente messo da parte a sostegno di altri tipi di interesse. Noi ci dobbiamo dare una svegliata, dobbiamo fare qualcosa perché i danni che stiamo subendo saranno danni che difficilmente potremo recuperare in pochissimo tempo. Ormai la nostra città, mi dispiace se mi dilungo, però è un momento di denuncia generale perché ormai un cittadino anglese non ha risposta in niente, in nulla. Io quando parlo di queste cose sono particolarmente sensibile, non si può andare avanti così, dobbiamo trovare una soluzione. Se me lo consentite voglio anche dire ai cittadini che un consigliere comunale di opposizione può fare solo quello che sto facendo io oggi, cioè denunciare le cose che non vanno, fare un'azione di controllo. Però l'ordinamento italiano prevede che chi vince le elezioni ha il potere assoluto sui processi politici del territorio che rappresenta. Io da consigliere comunale posso fare solo quello che sto facendo di opposizione, denunciare alla comunità in che condizioni versa il nostro territorio. A pochi metri dalla perdita di acqua anche una micro discarica abusiva, una delle tante che il consigliere Milo segnala. Si sta formando in pieno centro nel rione popolare, sorto negli anni 80. Milo invita la maggioranza a fare meno proclami, a lavorare sui fatti concreti finora non pervenuti. Questa è una delle tante discariche presenti, abusive, presenti sul nostro territorio. Però qual è la soluzione dell'amministrazione? È la colpa dei cittadini incivili che vanno a sversare di notte questi riviuti. È giusto, ci sta. Ma noi che stiamo facendo per tamponare questo fenomeno? Che cosa si mette in atto? Oltre a fare il proclama, oltre a fare comunicato nel dire voi cittadini incivili siete il cancro di questa società. Ok, condivido. Ma poi che si fa? Che cosa si fa? Si fa l'articolo di giornale? Ma vi pensate che amministrare la città significa questo? Amministrare la città significa portare le soluzioni? Allora io domando anche all'assessore, all'ambiente, qual è la soluzione che ha adottato finora che serve a prevenire questi tipi di fenomeno? A me ne risulta niente. Per Milo la città non ha bisogno di fenomeni ma di soluzioni concrete. Dobbiamo smettere di fare annunci, ecco si soffre patologicamente di annuncite politiche in questa città. Io credo che è arrivato il momento dopo sei anni di smetterla. Io purtroppo non posso fare nulla per mandare a casa questo sindaco, altrimenti l'avrei fatto perché io ritengo che questa amministrazione non può proseguire, ma non perché è una questione personale. Non può proseguire perché la città non si può più permettere altri anni di amministrazione condotti in questo modo. Assolutamente. Io oltre a denunciare, ho bisogno anche del sostegno dei cittadini, dobbiamo far sentire la nostra voce perché la città piange, la città è in uno stato di rianimazione. Dobbiamo fare qualcosa.